La Brioni Roma Style, l'azienda manifatturiera, leader del settore qui a Penne, fa di nuovo parlare di lei. Noi abbiamo convocato questo incontro perché siamo molto preoccupati per la situazione della Brioni Roma Style. Abbiamo appreso dei 50 licenziamenti che verranno effettuati entro la fine di quest'anno, altri ne sono stati annunciati e quindi intanto non intendiamo manifestare questo sentimento di preoccupazione. Intendiamo inoltre manifestare tutta la nostra vicinanza ai lavoratori della Brioni. Diremo loro che ci impegneremo appunto per salvaguardare i posti di lavoro e soprattutto ciò che chiediamo alla società è un piano di rilancio, un piano di rilancio serio. Sinceramente abbiamo sempre collaborato cercando di trovare le soluzioni migliori. Dal 2009 a oggi abbiamo utilizzato un po' tutti gli ammortizzatori sociali, ormai siamo diventati degli esperti. Noi puntiamo ad avere un impatto sociale il minimo possibile, questo è logico. Dobbiamo vedere attraverso anche questa mobilità volontaria che si è aperta la natura del problema. In base a come sarà la natura del problema l'affronteremo in un piano che prevede incontri continui, bisettimanali con l'amministratore delegato a partire dal gennaio dell'anno prossimo. Quindi dal gennaio del 2016 a marzo del 2016 lavoreremo per trovare la soluzione migliore insieme all'azienda, all'amministratore delegato e a chi rappresenta l'azienda naturalmente.